Gioca d'anticipo perché il suo spiega sia un percorso da subito chiaro e trasparente. Andrea Martella, candidato a guidare la segreteria regionale del PD, sale a Belluno con un nome in tasca, quello della segretaria provinciale Monica Lotto, che propone alla comunità nel ruolo di vice-segretaria del Partito Democratico del Veneto. È una testimonianza dell'attenzione nei confronti di questo territorio, che dovrà essere centrale nell'agenda politica del Partito Democratico Veneto. Un richiamo importante per mettere al centro dell'agenda politica del PD anche la questione femminile, che Martella ritiene fondamentale per affrontare tanti temi, ma soprattutto per portare uno sguardo diverso sulla società e sulla politica. Una bella soddisfazione per me, ma anche per il territorio bellunese. Viene riconosciuto un lavoro che in questi anni stiamo facendo e che abbiamo fatto, anche da chi è venuto prima di me. Un segnale al territorio veneto e a quello montano in particolare, del quale ci si deve occupare sempre, e non solo per le Olimpiadi Invernali, afferma Andrea Martella, che il congresso regionale sfiderà Laura Puppato. Il duello partirà il prossimo 26 novembre con il voto nei circoli e si concluderà il 19 dicembre, mentre per la proclamazione della nuova guida della segreteria bisognerà attendere il mese di gennaio. Questo percorso congressuale è un cantiere di idee aperto. I nostri circoli, i nostri amministratori, il lavoro sul territorio dal punto di vista culturale e sulle grandi questioni economiche sarà centrale. Quando ho accettato questa sfida ho pensato che sia una sfida difficile, ma anche avvincente. Nell'agenda della futura segreteria regionale del PD le elezioni in Veneto, in primis le amministrative del 2022, che a Belluno vedranno tra gli altri i rinnovi dei consigli comunali del Capoluogo e di Feltre. L'obiettivo del PD è l'unificazione del centro-sinistra, lo abbiamo detto in tutto e per tutto, è anche l'obiettivo del Partito Democratico Nazionale. Questo si è rimostrato anche vincente e quindi noi proseguiremo su questo impegno.